Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio per lavori. Sulla variante di Valico rallentamenti in direzione Roma per un veicolo in avaria tra Firenzuola e Aglio. Sulla A12 code a tratti per lavori in direzione Livorno tra Massa e Versilia. Sulla Ppili per lavori un chilometro di coda tra la diramazione Pisa-Livorno e Ponte d'Eraest in direzione Firenze. Sulla A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Itola in direzione Firenze per traffico intenso. L'area di servizio di Migliarino Sud in direzione Firenze è chiusa per lavori fino alle 19. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.